Siamo su Smite Potete trovarlo graditamente Link qui sotto Cioè appena inizia sotto in biografia c'è il link Intanto c'è questa che canta Hanno fatto Ma che roba è? Vabbè comunque c'è una nuova season Ci sono nuovi mostri Ci sono cose incredibili Come ho detto potete Scaricare il gioco qui sotto in descrizione Aggiungetemi CiccioGamer89 Eccolo qua D'accordo? Aggiungetemi Ho la lista amici libera Quindi aggiungetemi e ci giochiamo Ve lo dico Qui sotto trovate anche il canale Twitch Che sta per riprendere vita con la connessione nuova E potete giocare con me e contro di me Ma qui oggi non sono da solo Ci sono dei miei fitati amici Che mi accompagnano in questa fantastica avventura Che sono sempre i termosifoni Ciao termosifoni Ciao 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 Vedi c'è Giezzard Ciao Ciao C'è Mark Che è il migliore C'è Enot Hello Quindi ragazzi Anche loro hanno scaricato Smite dal mio link Non è vero perché comunque Già ci abbiamo giocato tante volte Infatti vedete io sto a livello 17 C'ho qualche eroe sbloccato Però non vi preoccupate Non è come League of Legends Che ci sono le rune e le masterie Sbaglio? No No non ci sono rune e le masterie Tipo per farvi capire Tipo Shard of War Per farvi capire Quindi dai ragazzi Scaricatelo E aggiungetemi Dai Invitatemi Merde Dai giochiamo Allora Dove sei Ciccio Gamer? Eh io ci sono Allora uno Due Grazie Tre Quattro Ok Ci stanno tante modalità di gioco Cosa vuoi fare Ciccio? Ci sono tantissime modalità di gioco E facciamo Arena? L'arena Sì Facciamo l'arena che è un po' più Più cacarona Diciamo così Io ve lo dico Se tutto va bene Questa sera Domani sera Comunque tenetevi aggiornati Sulla mia pagina di Facebook Farò la mia prima live Su Smite Su Twitch E potete giocare insieme a me Quindi scaricate il gioco Che poi tra l'altro Non pesa tanto Pesa quattro giga Lo hanno appena patchato Quindi È easy da giocare Senza problemi proprio Esatto Ci sono un po' di patch da fare Ma niente di che No Però tanto se lo scaricano da capo Creano un nuovo account Insomma possono giocare Ma c'è Sicuramente Poi io ve lo dico Se ovviamente Devo accettare Sì Se poi ovviamente Chi già ce l'ha Comunque se lo riscarica O si crea un nuovo account Dal link che gli ho dato io Ovviamente mi aiuta È inutile che ve lo sto a dire Però devo dire Che l'hanno rifatto completamente Ma il mio è cambiato Guarda che bello Ed è più bello Carino Mi piace Mi piace davvero Mi piace davvero davvero tanto Questa è la scelta dei giocatori Per esempio ci sono gli addicari Ci sono gli assassini Ci sono i support Ah una cosa che non hai detto Ciccio Dimmi I campioni Che in realtà sono dei Sono appunto dei Che sono ispirati alla mitologia Alla mitologia Ci sono vari Tenti come sono bravo Però dimmi Madonna Sei incredibile C'è Hercules C'è Odino C'è Thanatos C'è Isis Isis C'è Ti vogliono Il suo Thor Apollo C'è un figlio di Pollo Che fece l'amore Con il figlio di Mastronzo Ci abbiamo Vamana Conoscitissimo Vamana Comunque hanno Hanno rifatto Completamente Ymir Sì È bellissimo C'è l'hanno rifatto Completamente È bellissimo Hai visto che bellino Sì perché Finalmente sembra qualcosa di grosso Non un pezzo di piatto No ma più che altro Prima sembrava veramente un iceberg Invece adesso C'ha proprio le sembianze di L'hanno anche rinsecolito Perché prima era più largo Ha fatto una dieta E si è fatto crescere la barba E beh sì Fico 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 Poi qua rega Io ve lo dico Qua ci stanno più tette Secondo me di League of Legends No Ma proprio Le tette grosse Ma no ma proprio le tette grosse ragazzi Tette grosse E vi facciamo vedere È un po' differente A League of Legends Perché non lo vedete Dall'alto Non lo vedete Dall'alto Ma bensì lo vedete In terza persona In action Quindi è un'ottima Sì è un'ottima alternativa Infatti vedete Liezar ha dei gran seni E anche Marquez È per quello E anche Luke Allora voi avete capito una cosa Su League of Legends Ci sono champion Tipo Ash Che c'hanno le tette Normali No Poppe normali No Qui proprio tutti Ce le hanno grosse È una prerogativa Proprio Sì proprio grosse Ma enormi Forse Scilla No Ma insomma Essendo una bomba Il 90% sono delle bombe enormi E sul gioco Ballonzolano Infatti ora Liezar Venite qua a far vedere come Ballonzolano Maro se ti faccio vedere Guarda come Guarda che tettone Guarda Guarda che tettone Ma hai visto Ma hai not Che cazzo ballonzoli tu Che ballonzoli Che schifo Allora Prendiamoci gli oggetti Come vedete Ci sono pochissimi oggetti Rispetto a League of Legends Ma ce ne stanno davvero pochi E l'hanno anche cambiati qua Oserei dire Le immagini Le cose Abbiamo cambiato un paio di roba Quindi tanto Quello che prendete Prendete È tutto buono Ah una cosa importante No oddio Qua non c'è neanche Bisogno di prendere Quella roba là No No Va bene Perché se no Esatto Io prendo la Q Allora prendo la Q Prendo l'altra volta la Q E prendo le 3 Ovviamente inizialmente Dovete un attimo Fare attenzione ai tasti Perché vi dovete Trovare un pochino meglio Di League of Legends Io ho avuto delle difficoltà Almeno iniziali Non so se sto gioco Ve lo taglio C'è il video O Non lo so Perché mi trovo bene a parlare Perché sto gioco Ci abbiamo talmente giocato tanto Che so dirvi veramente Tutto quello che volete Questo me lo prendo io Non me lo prende Perché non me lo prende Oh non me lo prende Bici Ma che coglioni C'ho il mana Ma che coglioni Perché ti sei preso Non lo so Ma io no Tu parla Lo prendo io Ma perché mi sta dicendo L'Attack Speed Ma ci ho già giocato Milioni di volte Con questo gioco E l'hai installato Quindi Ah si perché Si era buggato Ve lo dico Magari per i vecchi udenti Si potrebbe Buggare Quindi In questo champion Però No ma con questo champion Devo assolutamente Eh Ah Mi fanno fuori Mi hanno fatto fuori Devo assolutamente Comprarmi le scarpe Perché è veramente lento Ma lento No lento tanto Lento proprio De quelli Grozzo Ma quelle cose che mo Guarda quello come sca Questa ce la famo Questa ce la famo No Vieni qui Aspetta Ulti E io Ulto Ulto io E Ulto io Ulto io Ci facciamo anche questo Oh Dai vai Dai amici Dai amici No ma sono sicuro Che questo gioco Lo scaricherete in tantissimi Perché ragazzi È davvero bello È veramente Un divertimento incredibile Ora purtroppo Questo Allora vi faccio Vi faccio un esempio Quando giochiamo noi Da soli a questo gioco Ovviamente io parlo Molto di meno Però si dicono un sacco De cazzate in più Ma a livelli disumani Cioè Aia E come ogni altro gioco Bisogna veramente Avere un buon team work Perché se no Voglio Voglio Eh non posso aiutare Vieni qua che ti rompo il culo Mamma mia Era da tanto che non giocavo Licocletti Vieni qui È morto Non è E ah Smite Eh vabbè Abbiate pazienza Purtroppo sono le troche Non ci si può fare niente Troche Una brucia Sì Dai 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 Eh Sapete che c'è Io devo ritornare un attimo indietro Perché Eh però non li Non vi posso lasciare da soli Ecco Ma tanto qua secondo me Possiamo pure un attimo Saltello Saltello Ah Quanti semi che giocano Mamma mia Ne vedo almeno 14 Io almeno 13 Eh sì Sono contento Uno è mezzo coperto Aspetta Ragazzi preparatevi Perché mo fanno il team fight Sicura c'è Ah Aiuto Aiuto No Mi mozzica Mi mozzica No No Non voglio morire Sono morto Ma sapevo che dove andiamo a manna A fan Non ho mai salvato Proprio per niente Non ho mai salvato Scusami Mi sei bloccato il gioco No Mi sei bloccato il gioco No Mi sei bloccato il gioco No Il gioco Che cosa Che cosa Ogni volta ste scuse Ma sono 18-0 Comunque vi ho detto Poi sto gioco Comunque una volta che lo capite Ma più che altro Sarà il muovervi Che vi fotte Di smuovervi Le spell Perché è proprio differente Da League of Legends State proprio a posto Cioè state a posto Lo trovate proprio Che poi devo dire La grafica Adesso non so se l'hanno Hanno fatto rework Proprio della grafica Però adesso io sto giocando 1920 Ragazzi io sto giocando 1920 e mi è cambiato il mondo Sono sincero Ah beh Poi tra l'altro Una cosa che non abbiamo detto Come vedete In basso a destra Ci sono due punteggi 4808 E 395 E quello là Praticamente Il punteggio Della squadra Della squadra Si vince così Non si vince Appena finisce Ma quanto Per questa modalità Esatto Per questa modalità Ovviamente Poi ci sono le torri Come su League of Legends Un'altra modalità Classica dunia Insomma Esatto Però Però Un po' di problemi Eh anch'io Tanti Ma grossi proprio Ma porca Mi ha portato in base Bene Sono contento Che stiamo Per perdere Male Tra l'altro Stiamo vincendoci Non lo so Lascia a fare Loro hanno Un po' di personaggio Pi Si Il mio personal Computer Non risponde I miei comandi Ma va bene Tu Prova che fai Le kill Eh così Perché sono Nitto Siamo contenti Di questi Però loro Non possono Voglio tanti Big money Per questa cosa Dai Olle fatto Ho più dietro Ho più dietro Sì sì Menate 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 sto bastardo No no Non puoi fare le escape così No che coglioni Oli e Benji Ogni volta Non dirò Oli e Benji Lascia perdere Vinceranno Il camp Pio Non vedo Venite un attimo qua Arrivo Arrivo Sto correndo Mi vedi Cioè in realtà Non corro Perché Si potrà chiamare Bellona Però il nuovo dio Ma dai Ho visto No 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 Non devi fare le escape No 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 L'uccita 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 Non voglio No Quindi andiamo nell'inventario E ci vediamo Ah Quattro contro Grandi Bene Che fa le double tip qui Non lo so Mi assento E fate L'amore con il sapore Eh sì Per forza Tu non ci sei Devo curcarlo Eh sono bloccato Di nuovo Eh vabbè però Mark Quanti problemi Devo cambiare la scheda video Eh probabilmente si Si ci ho regalo Ah Basta con questa ulti del cacchio Non se ne può più Un muro Con qualcuno Mi troppi Eh niente Mi ha trombato Qualcuno mi microppi Qualcuno mi prova Qualcuno mi microfoni Vieni qua Brutto pezzo di stro Oh Qualcuno mi ha ruttato Un testo Ma va bene Oh Attenzione Dai 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 Questo è nostro Questo è nostro È buono Vai E questo no E invece questo no Sì 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 anche questo Dai Siamo due assassini Oh Mamma mia ragazzi Bravo Maronne mie Chi si scarica il gioco E viene a giocare con me Può anche Fare Un video con me Perché poi ne farò altri Di smite Esatto E niente Poi c'è anche Il vabbè poi che lo dico topo Perché adesso stiamo giocando Ma quanto male mi ha fatto Troppo danno Tu non mi sa che meglio Se non mi scriveva Perché mi si è impallato tutto Eh ma perché tu sei andato a vedere Sicuro No 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 Ulto 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 Ultato Ultato Guarda con questa ultima Ma da tosso a lui Buono Oh Ribellino Aia mi menano Aiuto Verso di me Verso di me Ci Eh sono Ho provato a correre tanto Ma non ci sono riuscito mai Un lupo nero Aiuto Mi mena mi mena Mi mena Mi ho caduto L'ho bloccavo In qualche modo Non me lo blocco E ho fatto una kill Pensa un po' E mi si è bloccato il gioco Dai bro Aspetta che tabbo L'ho preso lì L'ho preso lì Aiuto Aiuto Amici Che coglione Aia Ma io sono full build Che cazzo mi compro Che non posso prendermi più niente Eh Niente Me lo dite Gelato Potresti prenderti Ma quello al cioccolato Gelato al cioccolato Dolce Un po' squagliato E' una di avere qualcuno dietro E' anche davanti E' un corpo Aiuto Ti ho salvato il culo Maronna mia Eh la ulti di questo Grazie Sono contento che hai buttato Fermatemi Li fermo Li fermo Li fermo Dai Che come sentite Ai momenti più clou Finisce tutto quanto E ci sta una musica tutta E' proprio quella La sentite L'ho fatto fuori E sono morto Eh ma l'ho fatto fuori No Troppo male 8 secondi amici 8 secondi Bella ulti Bella ulti Rompegli al culo Dai Arrivo 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 Eh me sa che ci hanno rotto Di poco Ma Cos'è anche Marco non c'era Vai corri Per l'amore del cielo No 43-45 Abbiamo perso Strano però Perché Mark ha giocato Con Ho fatto 10C Con noi soprattutto Si Ha giocato da solo Praticamente Però Guarda che Non devi Comunque Signori Appena si sblocca Perché delle volte Ci mette un po' Quando insomma Vuole Signori vi dico che Se scaricate il gioco Potete giocare con me Possete fare le live Con me Avete il link In descrizione E potete registrare Con me tramite Il mio TS Che trovate tutto In descrizione Beh direi che Comunque non è andata male Io ho fatto 20 No ho fatto 15 14 21 Vabbè Quasi come me Ma a fine Non va male Ringrazio i termosifoni Ciao Prego Signori vi ricordo Che trovate il link In descrizione Per scaricare Smite Gruditamente Al prossimo appuntamento A vostro video Ciao Ciao